Uno degli errori più gravi che possiamo commettere, che pregiudicano la vita della nostra rosa e quindi che dobbiamo evitare, è far ristagnare l'acqua vicino alle radici della nostra rosa. Se l'acqua rimane per lungo tempo vicino al colletto, questo punto qua vicino alle radici principali della rosa, vicino al suo gambo, ben presto le radici marciranno e la pianta morirà. Cosa dobbiamo fare allora per evitare questo problema? Quando mettiamo a dimora nella nostra pianta dobbiamo realizzare un monte o un dosso in modo che ci posizioniamo al centro la nostra pianta e lei sarà più alta del filo di campagna esterno. Quando noi annaffieremo allora l'acqua non si fermerà più vicino al gambo della rosa ma sgronderà verso l'esterno. La stessa cosa avverrà in caso di piogge, l'acqua non si ferma più vicino all'apparato radicale della pianta ma sgronda verso l'esterno. A questo punto l'acqua che è verso l'esterno per capillarità andrà a bagnare le radici e la pianta sarà salva dai marciumi radicali. Un altro errore grave che possiamo commettere è eseguire delle potature sbagliate, delle potature che non sono corrette. Innanzitutto la potatura va eseguita sempre con forbici ben affilate, disinfettate con alcol etilico a 70 gradi e dovremo potare la nostra rosa fuori rigori invernali quindi deve essere finito il freddo ma prima della ripresa vegetativa quindi la pianta ancora deve essere nuda non ci devono essere germogli. Trovate le condizioni ideali in base alla vostra località climatica vedrete sarà tra gennaio e febbraio dobbiamo eseguire la potatura in modo corretto perché se noi sbagliamo le potature questo è quello che accade, nei tagli ci saranno delle ferite queste ferite non cicatrizzano, il legno si secca, marcisce e qui ben presto la pianta o l'intero ramo morirà. Allora vediamo subito come si esegue invece una potatura corretta. La potatura corretta si esegue sempre facendo dei tagli dei nostri rami di quelli che non ci interessano nel rispetto del collare, il collare è quel punto del ramo dove si sta ringrossando il ramo e poi fuoriesce dal ramo principale, vediamolo uno qua. Osserviamolo bene in questo ramo qua, allora prendiamo per esempio questo ramo qui, questo che sto toccando con la punta della mia forbice, vedete questo è il ramo vecchio e questo è il ramo nuovo, questo colorato di rossiccio, questo ramo nuovo quando fuoriesce dal ramo vecchio c'è un colletto si chiama o collare, un punto comunque di questo ramo che è un po' più grande, un po' più cicciottello. Questo è un punto strategico del ramo, questo collare deve rimanere sulla pianta e devo togliere tutto quanto il ramo, quindi mi posiziono con la mia forbice in questo punto qua e poi faccio un taglionetto. Facciamo anche un esempio pratica, andiamo a eliminare questo ramo, quindi abbiamo detto che mi devo posizionare vicino al colletto, il colletto deve rimanere sulla pianta e il ramo deve andare via, taglio secco veloce, eccolo qua, mi avvicina ancora un po' per farvi vedere il taglio come deve essere praticamente eseguito. Questo collare poi con il tempo crescerà, quindi osserviamo di nuovo il taglio fatto su un ramo di un anno, crescerà, qui vediamo che sta crescendo, questo è il taglio del ramo fatto l'anno scorso, qui c'è un taglio di un ramo fatto 3-4 anni fa, crescerà quindi andrà a cicatrizzare, quindi a ricoprire completamente la ferita e la pianta sarà salva. Un taglio invece eseguito in modo scorretto, come stiamo vedendo questo qua, vuol dire non aver fatto un taglio nel rispetto di quel colletto, il colletto non riesce a cicatrizzare il taglio, il ramo inizia a seccarsi, marcisce, il secco e il marcio penetra all'interno del ramo e la pianta muore. In tutti quei casi in cui il vostro colletto non riesce a cicatrizzare la pianta, quindi non riesce a crescere velocemente, potete anche applicare un mastice cicatrizzante, guardate vi sto mettendo qui in alto il link del video su come farvi da soli in casa, un mastice cicatrizzante. Un altro errore che possiamo commettere è quello di non curare la nostra rosa sia contro le patologie fungine sia contro gli insetti. Tre sono le patologie principali che colpiscono la rosa, la debilitano in modo grave e la fanno morire, sono la peronospora, la ticchiolatura e la ruggine, stiamo vedendo qua la ticchiolatura, sono queste macchie rotonde necrotiche, pian piano si espandono, la foglia secca cade e la pianta muore, ma la ticchiolatura è molto simile alla peronospora, quindi anche la peronospora si presenta in questo modo e la ruggine, la ruggine la notiamo inizialmente con delle piccole tacche secche sulla foglia superiore, se noi giriamo come in questo caso qua la foglia sottosopra noteremo delle escrescenze piccoline di color ruggine. Contro queste patologie la miglior lotta è la prevenzione, quindi cosa dobbiamo fare? Fare prevenzione vuol dire che nel periodo invernale noi dobbiamo trattare la nostra pianta, la nostra rosa, con dei prodotti a base di rame. Si fa praticamente così, quando è pieno inverno quindi che tutte le foglie sono cadute e la pianta non ha più foglie, si raccolgono le foglie che sono cadute perché lì ci possono anche essere le spore di queste patologie fungine e in primavera ripresentarsi e si allontanano. Una volta che abbiamo allontanate le foglie facciamo questo trattamento a base di rame, rispetteremo le dosi indicate nelle confezioni, va benissimo poltiglia bordolese o ossicloruro di rame. Un secondo trattamento si fa invece subito prima della ripresa vegetativa e fuori dei rigori invernali, guardate in base alle vostre località climatiche potrete essere più o meno tra gennaio e febbraio. Fate questo trattamento sulla vostra pianta e comunque quando vi si presentano le patologie fungine sulla vostra pianta a verde ossia in fase vegetativa possiamo sempre fare un terzo trattamento, rispettate sempre le dosi indicate nelle vostre confezioni. Molti sono gli insetti che attaccano la rosa ma i più devastanti sono i pidocchi e i bruchi, occorrerà quindi monitorare la nostra pianta e appena vediamo questi insetti intervenire il più presto possibile. Contro gli afidi si può agire in diverse maniere, possiamo allontanarli, vi sto mettendo qui in alto un insetticida fatto con aglio e peperoncino, semplice anche da fare in casa. In caso in cui gli attacchi sono più massicci possiamo utilizzare il sapone molle potassico, vi sto mettendo qui in alto il link del video. Anche i piccoli bruchi ben presto deperiscono la pianta perché si mangiano le foglie, non c'è sintesi clorofiliana e la pianta si debilita. Vi metto qui in alto il link del video su come allontanare questi piccoli bruchi. Ed allora non mi rimane altro che augurarvi buona coltivazione delle rose ragazzi, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!